Ciao a tutti, sono Martina dell'Ombra. Allora, lo saprete ormai tutti quanti, è una notizia di dominio pubblico, in Italia ha vinto il no al referendum costituzionale. Ora io voglio dire solo una cosa, non vi vergognate? Cioè voi che avete votato no, non vi vergognate? Che dopo tutti i soldi che hanno speso per la campagna del sì, li avete fatti perdere? Cioè il governo ha speso un sacco di soldi, si è comprato tutti, si è comprato VIP, si è comprato persone, pubblicità e voi li avete pure fatti perdere. Cioè adesso non solo si devono probabilmente dimettere, non ci hanno più lavoro, ma sono pure senza un euro. Perché comunque, cioè i testimonial costano, le pubblicità costano, hanno dato fondo a tutti e voi li avete pure fatti perdere. Cioè è proprio una questione di educazione fondamentale, cioè che vi dovrebbero insegnare le vostre matri. Voglio dire, se uno ti regala uno yacht, anche se è per andare in Africa a morire da fame, però intanto tu lo accetti, lo prendi e dici grazie. Perché comunque c'è chi ha speso dei soldi per te, se anche ti regalano una corda d'oro per inficcarti, però tu te la devi prendere, la accetti, dici che bella è d'oro, magari la uso come collano, anche se è una corda. Perché comunque c'è chi ha speso e quindi è proprio rispetto e secondo me il problema in Italia è che non c'è più rispetto, ma soprattutto non c'è più educazione. Io vi dico solo, vergognatevi e anzi dico, faccio ufficialmente questa proposta. Tutti gli italiani che hanno votato no al referendum devono versare 2 euro, dico 2 euro a persona a fare una colletta per risarcire il povero governo che si è svenato per il sì e voi l'avete fatto perdere. Per di più mettendovi palesemente dalla parte dei cattivi, perché tutti i buoni stavano dalla parte del sì, a parte me, ma anche tutti gli altri buoni, cioè tutti quelli buoni, bravi, proprio era palese. Per di più lascerete in vita il knell, che era una cosa che doveva assolutamente essere abolita. Non si sa perché, però era comunque importante, anche se magari non sapete, non sappiamo che cos'è il knell, comunque doveva essere abolito, adesso invece rimarranno là a fare qualunque cosa faccia il knell. Quindi vergognatevi e adesso versate e risarcite delle povere persone che hanno speso milioni per farvi votare sì e voi avete votato no. Un chissino a tutti, da Martina nell'ombra, oggi sono arrabbiata.